Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla Rassina Stampa in diretta, Fano TV 7.30 tutte le mattine apre con voi la giornata e l'informazione. I giornali sono pronti ma noi come sempre procediamo in ordine, andiamo con l'almanacco del giorno, sabato 7 maggio, Santa Rosa Venerini, Vergine. Il sole è sorto alle 5.51 e tramonterà alle 20.18. Come riconsueto dopo l'almanacco le previsioni del tempo, vediamo cosa ci suggerisce la protezione civile delle Marche. Per oggi sabato 7, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso per sviluppo di cumuli nelle zone interne e nelle ore centrali della giornata, però vedete sulla costa c'è sole, occasionali piovaschi però lungo il crinale appenninico, temperature in lieve aumento per quanto riguarda le massime. Previsioni per domenica, anche qui diciamo che compare un po' più di nuvolosità sulla costa per il transito di velature e sviluppi cumuliformi sui rilievi, precipitazioni anche qui, possibilità di occasionali rovesci però sempre sugli appennini e le temperature rimangono stazionarie senza variazioni di rilievo. Vediamo come inizierà la settimana dal punto di vista del tempo, più o meno sulla costa si rimane sul parzialmente nuvoloso, mentre sul crinale appenninico, vedete, la pioggia viene a intensificarsi, possibili anche isolati piovaschi nelle zone interne, quindi ci si sposta, le temperature si rialzeranno per quanto riguarda appunto sia minimi che massimi. Guardiamo cosa c'è nei giornali, partiamo dal Corriere Adriatico di Fano, ieri nel Consiglio Comunale si è tenuto un incontro con l'assessore Bagnesi, il sindaco e il responsabile del CERT Mazzoli, perché il Comune di Fano ha aderito al manifesto dei sindaci sulla legalità e contro il gioco d'azzardo, e quindi si è parlato di questo. Numeri anche sono stati snucciolati, alcuni dei quali sono presenti appunto nell'articolo. Mazzoli dice, seguiamo in tutta la provincia naturalmente, 91 giocatori compulsivi. Il responsabile del CERT dice che questa è soltanto la punta dell'iceberg però, perché la ludopatia dilaga e pochissimi si occurano, e soprattutto molto pochi sono quelli che arrivano al centro per le dipendenze e che accettano anche di curarsi. E quando vi arrivano sono ormai conclamati, cioè sono ormai dei giocatori che sono stati purtroppo catturati nella spirale di questa malattia, di questa patologia che è al pari delle dipendenze anche più conosciute come appunto droga e alcolismo. E oggi questo manifesto verrà sottoscritto dal sindaco che chiedono, questo manifesto chiede al Parlamento, i sindaci chiedono con questo manifesto più autonomia e una legge più restrittiva in termini proprio di gioco d'azzardo, slot machine e insomma tutti i luoghi dove si può effettuare il gioco. Allora, vediamo, continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, attenzione, attenzione alla banda degli abbracci fatali, i tre arrestati a Mondolfo sono di nuovo irreperibili, i carabinieri scoprono altre cinque truffe firmate da loro con la tecnica dell'abbraccio. Vediamo cosa avviene a Senigallia, sempre dalle pagine del Corriere Adriatico, la stagione inizia e alle porte le prime giornate di sole si affacciano e quindi in vista del primo weekend soleggiato, spiaggia pronta e prezzi congelati, i bagnini sistemano ombrelloni, sdraio in vista appunto di questo weekend. Poi in testa di pagina una notizia di cronaca, due donne, due giovani donne si introducono in un appartamento di due ultraottantenni che avevano da poco preso la pensione, mentre cercano di arraffare qualcosa, vedono una fotografia, si spaventano e scappano. Insomma, nell'articolo tutti i particolari di questa roccambolesca vicenda che ha tenuto sulla tensione due anziani, minuti di panico. Andiamo nel messaggero, la pagina di Pesaro, si parla di elezioni, in testa di pagina a giugno ci saranno le elezioni, è un duello, praticamente tutto più di 5 stelle, oggi scadono i temi per la presentazione delle liste in provincia, si vota in 9 comuni. Forza Italia assente, Alfonso Bronegredare, i grillini in gara nei 4 centri maggiori. e poi Franceschini si farà la barba sulla poltrona di Casa Rossini, questo lo dice il ministro, aumentano i drogati del gioco d'azzardo, questo lo abbiamo visto anche qui, fotonotizia per la Vis Fano, febbre da derby. E il meteo, dice, cieli sereni e poco nuvoloso, grazie per il conforto. Siamo ancora nelle pagine del messaggero di Pesaro, nuovo centro, si parla di rifiuti, nuovo centro pronto a giugno, i lavori per la struttura di via Toscana procedono più spediti del previsto, trasferimento in tempi brevi, l'area di via Acquedotto si prepara così al recupero, e non solo al bocciodromo, ma anche progetti più ambiziosi per questa area di Pesaro, quella dell'Acquedotto che è stata anche oggetto di alcuni fatti di cronaca. Continuiamo nel messaggero di Pesaro e Urbino, 9 comuni al voto, ecco appunto il lancio della prima pagina, il vero duello sarà tra PD e 5 Stelle, Forza Italia appunto, abbiamo visto, non candida nessuno per questa tornata. Nella pagina invece di Fano del messaggero c'è un articolo che riguarda appunto l'ospedale unico, insomma una presa di posizione del centro-sinistra che si schiera contro il fronte del no, la maggioranza ha annunciato il suo voto sulla mozione che sarà discussa in Consiglio, è necessario, dicono, superare l'attuale assetto su tre strutture, intanto sì al riequilibrio tra quelle esistenti, vedete qui nella fotina Boris Rapa, il consigliere appunto del Partito Socialista, che intima l'altolà al PD, le scelte importanti sono da condividere e non ci piace che i sindaci siano in subuglio, la litigiosità dei sindaci non piace. E poi in basso nella pagina vi segnalo una mostra che si tiene oggi, che viene inaugurata oggi, è una mostra dell'artista Rita Benini, è una personale, ecco, nella foto, una opera che è presente nella mostra e questa pièce viene organizzata per aiutare il centro antiviolenza. Andiamo nel Carlino, l'ultima testata che vi facciamo vedere per oggi, la pagina iniziale dell'inserto che riguarda l'inserto locale, il lavoro sempre più in nero, si parla di lavoro, in testa di pagina, un rapporto da brividi e dopo lo vedremo. Ho segnalato anche un grave incidente tra Travuglia e Gradara, si schianta in moto un giovane ristoratore, è naturalmente questo qui nella foto, 22 anni, lavora in un locale di sushi, è grave, le condizioni sue sono gravi al momento. E poi Sanità Lampo in Romagna, nota inchiesta su esami e liste d'attesa, rivolgersi alle strutture fuori regione, accorcia i tempi di settimane, questo è l'articolo che troverete all'interno e poi c'è un'altra di cronaca che vi leggo per intero dopo, allora vediamolo, questo rapporto molto preoccupante del CGL, è una fotografia da brividi dell'ispettorato, sono 1.300 le aziende perse, operai però a 5 euro l'ora, ecco il ricatto, in un anno più 20% di contratti irregolari. Quindi insomma una foto veramente allarmante, ci sono tutti i numeri, tutti i dati, nell'articolo li potete consultare. E poi si parla nel resto del Carlino, nell'inserto di Pesaro, del nuovo piazzale alla palla di pomodoro, definito penoso, ma non ci hanno lasciato scelta. la protesta SEL e la lista civica, il progetto è a tempo scaduto, i nodi della città, vedete nella foto i lavori che stanno procedendo per questo nuovo piazzale che pare non piacere molto a SEL. L'inserto di Fano, che vi faccio vedere, del resto del Carlino, si parla appunto anche qui dei malati seriali che sono appunto in aumento, anche i giovani sono a rischio, catturati dai casino online, che sono i casino più frequentati, che allettano i giovani con dei bonus iniziali. Una tendenza purtroppo in crescita, Mazzoli diceva proprio nell'incontro che il fatto di essere a casa, il fatto di essere in un ambiente chiuso, familiare, eccetera, davanti a un computer, in pochissimo ci si aggancia e quindi insomma il rischio è veramente quello di essere trascinati in un vortice dal quale non se ne esce. Tendenza appunto in crescita e che non conosce limiti di età purtroppo. Continuiamo, vi faccio vedere le ultime due pagine del resto del Carlino. C'è una di cronaca, a scuola bus frena, una bimba vola dal sedile, la piccola si è ferita lievemente ed è stata trasportata al pronto soccorso, ma paura e apprensione dei genitori. L'autista è stato costretto a una frenata improvvisa a causa di una moto che gli ha tagliato la strada improvvisamente. L'ultima pagina che vi faccio vedere è questa, in virtù del fatto che l'estate si avvicina, le scuole si chiudono, insomma c'è anche una mappa di servizi che può essere utile alle mamme nelle pagine di Fano, il pianeta dei piccoli, ecco le strutture e posti a disposizione delle famiglie. È stata in asilo la mappa dei servizi e dove anche rivolgersi possibilità sia nel campo del privato ma anche del pubblico. Di spalla trovate anche le asfaltature che partiranno da lunedì e che riguarderanno appunto la zona della Sassonia, cambierà un po' la viabilità e qui nell'articolo del resto del Carlino vedete ci sono tutte le direttive per le giornate a seguire. Poi alvia anche il progetto la città dei bambini che viene rilanciato, il sindaco Seri lo aveva sempre annunciato, più spazio ai bambini e ai pedoni, quindi se la città è a misura di pedone è anche a misura dei bambini. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere, grazie per essere stati con noi, Occhio e Giornali termina qui, un saluto anche a coloro che ci seguono in replica, se volete essere aggiornati c'è il nostro sito web che potete scaricare anche l'app sul vostro telefonino per essere in collegamento diretto, lo trovate negli App Store, naturalmente a vostra disposizione se non lo avete già fatto. Occhio e Giornali torna lunedì mattina alle 7.30 puntuali, buon sabato e buon fine settimana a tutti voi. Grazie a tutti.